Martedì gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Attesa per le sfide tra Paris Saint-Germain e la formazione del Barcellona e poi quella che vedrà di fronte Bayern Monaco e Porto. Per la prima sfida al Nou Camp la formazione transalpina cercherà di ribaltare il 3-0 subito dai Blaugrana che al momento sono in testa nella Liga di Spagna. E vogliono confermare il momento positivo. Anche per il Bayern Monaco c'è una piccola speranza di rimettere tutto in discussione nella delicata sfida contro il Porto in terra lusitana. Certamente all'andata la formazione tedesca che è prima in classifica nel suo campionato si è trovato di fronte un Porto particolarmente sorprendente che in campionato ha battuto di misura l'accademica e vuole continuare a vivere una settimana da sogno.